Ciao a tutti, nuovo video, oggi faccio un video velocissimo, questi sono gli ultimi orecchini che ho fatto, mi piacciono veramente tanto, questo pezzo basso l'ho proprio scopiazzato da Dory, mi piaceva tantissimo queste foglie, poi vi farò vedere l'orecchino in cui mi sono ispirata, vi lascio il link sotto, sono completamente diversi, però queste foglioline sotto mi piacciono da morire, veramente tanto, oggi faccio questo video abbastanza velocissimo, perché con la scuola e tutto quanto sinceramente tempo ne rimane veramente poco, allora ho detto quasi quasi faccio un video con il telefono, veloce, almeno riesco a far vedere questi orecchini. Allora, io non l'ho completati nel retro ancora, non l'ho completati proprio per farvi vedere i passaggi con il filo eccetera, farvi vedere il disastro che io combino quando creo Queen Soutage. Allora, vi volevo dire che queste perle con gli strass sono quelli che ho preso dalla BB Craft, che mi piacciono tantissimo, si vede poco, sono molto più rosati insomma come oro, mi piacciono perché rendono diciamo una caratteristica insomma dell'orecchino, mi è piaciuto tantissimo, la catena è anche della BB Craft, le piattine sono, vai fino in canto, ho messo i svaroschi, svaroschi e questi sono dei mezzi cristalli, credo della preziosa, non mi sbaglio, vi dico tutto quello che ho messo, mezzi cristalli, svaroschi, questi invece erano, cioè erano, sono, dei, credo in resina del, se non sbaglio, sempre di filo in canto. Allora, siccome non avevo il perno a coppetta dietro, vi faccio vedere il disastro che io ho combinato, questo è il disastro, questo per farvi capire quello che combino. E per spiegare una cosa, allora, io ho messo il perno giallo incollato, e l'ho piegato con le pinze, perché non avevo il perno qua a coppetta, si può anche mettere abbastanza grande qui, però io lo volevo un pochino più in alto, a parte l'avevo terminato, quello un po' più grande, ma ho messo questo e l'ho piegato con le pinze, è d'acciaio, cioè sono diventata pazza per piegarlo, veramente. Allora, vediamo se metto a fuoco, ok, allora questo va tutto cucito, eccetera. Io spesso, quello che volevo dire, quando vedo che dietro viene messo dell'ovatta o del riempimento per rendere tutto liscio, io spesso li lascio lunghi e poi decido cosa tagliare. In questo caso, siccome c'è il cabochon, cioè i rivoli, i rivoli in Swarovski, io faccio in modo che qui metto la colla e lo incollo ancora sulle piattine, le schiaccio bene, e qui già mi fa da spessore intorno e non c'è bisogno, insomma, di riempire, qui me non serve perché rimane assolutamente pulito. Qui sicuramente taglio, ma sfumerò un pochino anche da questa parte, proprio perché c'è questa perla, perla, insomma, questa sfera in metallo con i strass, i magneti riempire qui intorno e non c'è spreco di piattini, ovviamente queste vengono, dovevo tagliarle. In questo modo riempio un po' e non faccio, insomma, quella cosa di riempire, perché più pulito è e meglio è per me, eh, questa è una cosa mia. Ho provato ad usare il filo, insomma, se si vede, il filo, qui già ho cominciato a mettere a fuoco, ad incollare, va bene. Ho provato ad usare il filo, che numero ho usato, 12, ecco, c'è un momento di vuoto, sì, 12, quello che ho preso da Decathlon, di nylon, e alla fine, insomma, comincio ad usarlo bene, alla fine riesco a fare qualcosa di decente, e perché prima lo tiravo veramente troppo, perché, abituata ad usare altri fili, e, insomma, sono, ecco, mette a fuoco, sono riuscita a non tirare troppo, anche qui, che non riuscivo a capire, perché, ovviamente, usando un altro tipo di filo, la consistenza, mi dovevo un po' abituare alla consistenza, ovviamente, qua l'ho messo doppio, e poi ho ricucito tutto, credo che i punti si vedono, forse, un pochino, leggermente, leggermente, anzi, con il telefono si vedono di più, dal vivo non si vede nulla, e, insomma, questi sono un colore molto, molto autunnale, mi piace, qui c'è una pieghetta, ma basta fare in questo modo, quando poi dovrò incollare, ecco, che c'è qua, un po' di curva, ma poi quando incollerò, sì, io sono fissata per la perfezione, vedete che ho schiacciato adesso per prenderli qua al centro, ma quando poi si mette, si mette, insomma, dietro, oggi mancano le parole, insomma, la cantara, e, insomma, non si vede più, lo sistemo bene, allora, questi li farò anche in un'altra, in un'altra, un altro colore, e, perché mi piace come modello, diciamo, sono anche un po' serenosa, sì, serena di mersion, diciamo, questa parte qui, insomma, li sento poco miei, un po', perché quando poi uno, a parte più, cioè, ispirarsi, fino a un certo punto, ma questa parte qui, insomma, è proprio di Dory, ce ne lo dico chiaramente, ma mi piaceva veramente tanto, e, mi piaceva, insomma, tantissimo, anche se usa altri colori, altre forme, però, insomma, l'idea, l'idea mi è piaciuta tantissimo, e l'ho voluta rifare. Poi avevo tante cose da dirvi, a parte l'ultima collaborazione che ho fatto, se avete visto il video, poi ho aperto un nuovo, un nuovo, un nuovo profilo su Instagram, ma ci tenevo a dirlo, che invece di essere Dolci Riflessi e basta, invece Luana.Dolci Riflessi, metterò soltanto le creazioni, a meno di rendere più pulito possibile, visto che l'altro profilo, insomma, c'è il privato, insomma, c'è di tutto e di più, YouTube, i canali, eccetera, per cui iscrivetevi subito su Luana.Dolci Riflessi. E poi, altra cosa che volevo dire, ho tanti video da fare, poi ho il video da fare della, che ho partecipato al concorso per l'S&Co, perché veramente è stato un qualcosa di inverosimile per me quello che è successo, proprio come trattano le concorrenti, è stato incredibile, non mi è piaciuto, per cui già vi annuncio quello che, insomma, vi farò vedere la collana che ho fatto, le cose che non mi sono piaciute, anche i vincitori che non sono proprio, non l'hanno fatto neanche vedere, una volta è basta, io comunque ho la foto dei vincitori, la farò vedere io, e sperando, insomma, che credo che si possa fare, perché il video, insomma, non il video, le foto erano pubbliche, qui credo che si possa fare, insomma, mi devo prima informare se posso farvele vedere, insomma, poi avevo un'altra cosa, e quando vado, ecco, di corsa, poi dopo mi perdo, e sto facendo altri orecchini, altre cose, arrivano i tutorial, insomma, sono veramente indietro, indietro con le collaborazioni, indietro con tutto, ma veramente con la scuola, è incredibile, finché non parte la scuola qui, è tutto un corri-corri, Allora, io sono contentissima di averli fatti vedere, e spero di ritrovare la foto in cui io mi sono ispirata su questa parte bassa, in maniera di farvi vedere, insomma, che non c'entrano niente con l'orecchino, ovviamente, spero di riuscire, che semmai, insomma, ve lo lascio sotto, per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, ve lo lasciate, e spero di poter andare anche alla fiera di Roma, sicuramente ci sarò, devo decidere il giorno, il giorno in cui, insomma, è un po' più comodo per me, e niente, vi ho detto tutto, ah, ci saranno le live, di nuovo il lunedì, e deve partire la scuola, perché poi dopo non si può fare niente con loro in casa, è un po' difficile, e ci sono altre collaborazioni di resina, e poi sto realizzando dei cabochon in fimo, allora, i cabochon in fimo, diciamo che sarà la prima passione, il fimo, no? il fimo, no? pasta polimerica, che poi non ho comprato il fimo, ma ho comprato altre cose, e ho iniziato proprio con loro, sono andate a vedere proprio i primi, i primi video di tanti anni fa, e io ho iniziato proprio con la pasta polimerica, poi ho abbandonato e mi sono fatto, insomma, altre cose, mi affascinavo di più, però voglio realizzare proprio di cabochon, perché ho visto molte creativi hanno ripreso, e mi hanno rinvogliato, mi hanno, mi è presa, insomma, la voglia di, di, di provare di nuovo, a sperimentare cose nuove, e è bello mettere anche degli, degli elementi, insomma, che, che sono fatti da noi, insomma, è una bellissima cosa, quando vedo, eh, gli orecchini, o un bracciale, una collana, con tutti gli elementi fatti dalla creativa, mi piace tantissimo, e li apprezzo molto di più. Allora, ragazze, o ragazzi, io vi saluto, ricordatevi di, eh, di iscrivervi sul nuovo profilo di, su Instagram, che è luana.dolciriflessi, vi do un bacio a tutti, ci vediamo con nuova vittoria, a nuove collaborazioni, nuovi video, nuove idee, e nuovo tutto. Un bacio, ciao ciao!